Ciao bimbi, è un altro giorno e siamo di nuovo davanti al nostro calendario molto velocemente perché io so che voi siete bravissimi allora, oggi dobbiamo aggiungere un giorno oggi è mercoledì giallo il nostro palloncino trotta sul cavallo prendo la pinzetta del colore giusto e la metto al giorno scherzetto, scusate, la metto al giorno malaghi, sì, è un giorno giallo mercoledì, è un giorno lunghissimo, ha quattro battute poi, oggi, metto il giorno sotto guardate che ci stiamo avvicinando il sorriso delle maestre sono già passati tre giorni il tempo è un po' populoso lo metto qua, proprio sopra le nuvole, al disegno delle nuvole per oggi il nostro calendario è finito ma voglio farvi fare un piccolo lavoretto o farvi andare a cercare uno strumento musicale perché vi faremo ballare dopo io, maestra Luisa, maestra Rosella, vi faremo ballare una canzone di inglese dunque, se la casa avete un suonaglio, va bene un altro d'ambulello suonaglio, va bene anche le malattie ma se non avete niente dovete fare una bottiglia un contenitore di plastica di mamma quello che mette dentro un pezzettino di mela per mettere in frigo oppure un ovetto qualcuno l'avate già portato a scuola dentro gli mettete tipo io adesso metto un po' di pastina può essere anche un po' più grande chiudete bene bene e in un attimo avete costruito la vostra malattia sentite dopo capirete perché ho fatto questo gesto pronti? preparate la vostra malattia e ci vediamo con la canzone di inglese grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.